Però prima di entrare in quel mondo lì, sono andato a trovare uno dei più grandi innovatori della televisione italiana, Piero Chiambretti. Perché Piero? Perché è un occhio di... insomma è una persona di grande intelligenza, di grande cultura, quindi ha sviluppato degli anticorpi personali fortissimi, proprio nel momento in cui ha vissuto e subito il Covid insieme a sua madre, anche lì lui è stato attaccato. Ascoltate Piero Chiambretti, l'abbiamo preso di nascosto fuori casa, guardate con Danilo Lupi. Io Chiambretti, buongiorno. Chi siete? Non è l'arena, Giletti, la setta. Massimo Giletti. Sì, esatto. Proprio lui? Proprio lui, in persona personalmente. La disturbo, la interpello per questa cosa, lei è un po' un esperto di telerisse, no? Diciamo, tra le altre cose. Sì, più che altro sono stato al centro di alcune, oggetto di alcune risse, sì. Ha visto la scena dell'Academy, degli Oscar? E chi è che non l'ha vista? Che ne pensa? Beh, è un bel momento di pugilato, più che di televisione, però fino a un minuto dopo ho pensato che fosse addirittura combinato. Il suo camera mi sta per finire sotto una macchina. Ed evitiamolo, insomma, perché... Poi invece ho visto che l'Academy si è così un po' ribellata, giustamente, si è rivoltata nella tomba e quindi l'immagine e anche l'Oscar sono a rischio. Ma a chi è venuta in mente l'idea di chiamare me alle 10 del mattino per parlare di Will Smith e degli odiatori? E degli odiatori, agiletti, agiletti, voglio dire responsabili, vabbè mi tocco gli occhiali perché sto meglio senza occhiali, sì. No, la cosa che volevo chiederle è se è un po' evoluto forse la rissa, lo scontro, cioè è cambiato qualcosa rispetto al passato? Ma no, è aumentata la rabbia, è aumentato l'odio nei confronti dei personaggi. Io dico per la verità, andando controcorrente, che i personaggi pubblici hanno tanti privilegi e quindi devono anche accettare di essere attaccati da illustri sconosciuti. E in tempi molto lontani, già qualcuno, credo, forse Ennio Flaiano, diceva che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo. Quindi il successo porta con sé anche queste piccole complicazioni. Solo che io fino a oggi haters non ne avevo. Dopo questa intervista ne avrò, quindi mi avete rovinato la festa. Non è del tutto vero, insomma, nel senso che purtroppo, tra l'altro, proprio dopo una trasmissione con Giletti, con noi, si ricorda che ha raccontato quella sua esperienza. Ah, beh, certo. Molto negativa, il Covid, la perdita di sua madre. Eh, certo. E gli hanno dato, insomma, gli hanno dato del ciarlatano, del prezzolato, del venduto. A me, non è neanche Leolette. Ma io glielo posso far leggere un paio. I miei? Sì, io sono venuto preparato, amica. Ma anche Giletti ha degli haters. Soprattutto, soprattutto, direi. Ah, ecco perché lo manda a me, ma a me non risponde lui. C'è i tanti illustri lui, eh, devo dire, insomma. Infatti, vai a quel paese, anche tu, Chiambretti, venduto come Giletti. Ma venduto a chi? Eh, questa è una buona domanda. Perché mi piacerebbe vendermi a qualcuno, perché non mi è mai successo. Però, voglio dire, una frase del genere. Si commenta in quel momento lì. Quello era un momento delicato, perché io parlavo per la mia esperienza personale. Ma c'era una battaglia in Italia, che adesso pare un po', come dire... Un po' calmata, smorzata dalla guerra. Dalla guerra, dove c'erano quelli che stavano con i vaccini e quelli che stavano contro i vaccini. E quindi uno che sta contro non vede l'ora di poter dire a uno che è a favore, sei un coglione. Non lo dico a lei, ma... No, no, chiaro, chiaro, chiaro. Pensi se un giorno uno poteva scrivere direttamente a John Wayne e dirgli fai schifo. È una soddisfazione esagerata. Secondo lei, dalla TV ai social, si è cambiato qualcosa, ecco, proprio in conclusione. Qualcosa, è cambiato tutto. Perché sono più protagonisti, quelli che stanno sulla rete, di quelli che stanno in televisione. Se adesso lei mi dà il suo indirizzo, diciamo, di rete, il suo profilo, io comincio a scrivere contro di lei. Ad odiarmi, ad odiarmi. Perché sono le 10 e 10, capisci? Io stavo andando a bere un cappuccino. Grazie a tutti. Un cappuccino, arrivederci. Attenzione a non finire sotto la macchina. Grazie tanto. Ciao. Arrivederci. E diciamo che...